Mi pare che Sardini abbia sempre detto che voglia far processare, non ho niente da temere, ha sempre detto che voglia andare a giudizio, lo disse anche sulla 18, se dovremmo andare a giudizio ci andrò non ci sono problemi. Adesso fa la vittima al contrario. Io penso che sia ben chiaro che la questione Gregoretti non è la questione 18, perché la vicenda 18 fu una decisione di governo. La questione e la vicenda Gregoretti fu propaganda del Ministro Salvini, è stata propaganda del Ministro Salvini che a un certo punto ha cominciato ad annunciare il blocco delle navi delle nostre forze militari, delle nostre forze di sicurezza, perché quella non è una ONG, la Gregoretti non era una ONG, era una nave dei nostri corpi di sicurezza e ha cominciato ad annunciare questi flocchi via Twitter e ci sono tutte le mie dichiarazioni di quei giorni che dicono rispettiamo gli uomini indivisi e rispettiamo i nostri uomini che sono su quella nave. Quindi mi pare che quando c'è stato il caso 18 il Ministro, l'ex Ministro Salvini dicesse non ci sono problemi, andrò a processo. Adesso lo vedo un po' impaurito forse, però è evidente che ognuno si deve prendere le proprie responsabilità.